Cosa ha scoperto nelle sue ricerche sulla possibilità per i computer di creare musica? Sto investigando la possibilità per i computer di capire la musica e anche di generare e comporre musica originale di diversi stili, di imitare lo stile dei musicisti esistenti. Quindi i computer possono solo imitare la musica, non crearne una nuova. Bella domanda. La differenza tra imitazione e creazione non è molto chiara. A volte pensiamo che qualcuno sia molto creativo, ma in realtà cosa significa? A volte ha solo preso una buona idea, non sappiamo da dove, quindi ancora non sappiamo bene cos'è la creatività. Studiando l'imitazione credo che capiremo sempre di più che cos'è la creatività. Oggi a Internet Festival darà una dimostrazione di musica fatta dai computer? Ne parlerò e mostrerò alcuni esempi di musica generata dai computer. Grazie. 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 Grazie.